La parrocchia del Pignone diventa un luogo di accoglienza, 12 posti letto messi a disposizione per 11 donne di età variabile, dai 20 ai 50 anni e più. La povertà non trova ostacoli, si manifesta in tutta la sua durezza, eppure qui, in questo luogo lasciato esclusivamente da quest'anno alla presenza femminile, c'è dolcezza. L'arrivo delle telecamere genera un po' di timore, ma i nodi si sciolgono quando qualcuno decide di raccontarsi. Nel mese di dicembre mi raccontava che ci sono state delle notti particolarmente pesanti a causa del freddo. Sì, certo, infatti grazie a loro uno può stare caldo, può avere un pasto caldo, può farsi la doccia, può fare, insomma, grazie a loro tutto questo. È un modo anche per fare conoscenza, per stringere amicizia anche con altre donne che sono qui? Certo, 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 io ho stretto amicizia con una compagna, per ora sto bene. Com'è che hai vissuto questo periodo di pandemia? Come lo stai vivendo? Ma loro, guarda, ci fanno i tamponi ogni due settimane, anzi, sono parecchio restrittive su queste cose, appunto per il Covid e queste cose, fai i tamponi, ci fanno fare le visite, ci fanno fare delle cose importanti, insomma. Quindi siete controllati? Controllati, certo. L'emergenza freddo è partita nel mese di dicembre 2021, i volontari in strada continuano a dare soccorso anche a chi nei giorni più freddi rifiuta l'accoglienza. Poi ci sono le strutture dedicate in città, quelle che garantiscono un pasto caldo e un letto. Per quanto riguarda i numeri, ad oggi siamo intorno ai 120 persone accolte, di quelle che hanno accettato l'accoglienza. Ovviamente le unità di strada stanno continuando ad andare per le strade via via, che si riescano a convincere le persone a inserirle, questo ovviamente è il nostro obiettivo primario. Non è semplice in questo periodo di pandemia aiutare chi ha bisogno, il rischio è sempre lo stesso, la generazione di focolai. Ma tutto questo un giorno avrà una fine, poi, come dice Papa Francesco, sottolinea Don Giovanni, siamo tutti sulla stessa barca. Dalle crisi non si esce come prima, o si esce migliori o si esce peggiori. Io spero che si possa uscire migliori, nel senso di riscoprire le nostre fragilità, riscoprire la frase che purtroppo diventa uno slogan, siamo tutti sulla stessa barca, ma è così.